Forse complice il lungo periodo di lockdown, sono apparse meno sporche del solito le rive dell'Adda in alcune delle zone più frequentate del corso del fiume Lombardo a Lodi. Stiamo parlando della Martinetta con l'annesso opaco del bel giardino e le due acque lungo la provinciale per Buffalora d'Adda. Se ne sono accorti i lodigiani che di buona mattina hanno partecipato le tradizionali grandi pulizie di primavera promosse in città dall'associazione lodigiana Pescatori Direttanti. Una quarantina di involonterosi ha passato il setaccio alle sponde destra e sinistra dell'Adda, gestite dal sodalizio guidato da Giancarlo Magli, recuperando di tutto. Dagli immancabili oggetti in plastica, le bottiglie in vetro, dagli scarti domestici a quelle di natura idile, con sorprese di vario genere. I rifiuti sono stati raccolti da un apposito camion che ha provveduto a depositarli nell'area creata appositamente per essere poi smaltita da linea gestioni. All'iniziativa hanno partecipato le guardie ecologiche del Parco Adda Sud, ente presente anche con il suo presidente Francesco Bergamaschi. La mattinata, immersi nel verde, ha permesso di notare diversi atti di inciviltà messi in atto dai ignoti del tutto gratuiti e dei preclamenti. Intanto, dopo diversi rinvii, pare proprio che domenica prossima, meno di imprevisti dell'ultima ora, il Parco del Bel Giardino riaprirà i battenti a chi vuole trascorrere qualche ora in una delle zone più suggestive della città.